A Trani si è inaugurato il Museo della Guardia Urbana di Trani, il primo in Italia. L'iniziativa a cura della sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia Municipale in Pensione ha avuto luogo presso la sede della stessa associazione. Viene inaugurato oggi a Trani il primo Museo della Guardia Urbana. Primo perché anche se ci fosse qualche altro pezzo, qualche altro paese, ma è un numero ristretto con due o tre divise. Noi invece, se lei guarda, c'è dalla prima divisa fino in ordine, fino all'ultima, compreso anche, come le può notare, le motocicliste e tutto il resto. Quindi una completezza non solo delle divise, ma anche fotografico, per se le vede le fotografie a partire dal 1800 in poi. Quindi cose che non c'è in giro. Quindi noi siamo felici di averlo fatto. Ci siamo sacrificati tramite tutti i colleghi che si sono adoperati per dare un segnale, diciamo, alla cittadinanza, ma anche ai cittadini. E se stiamo auspichiamo al sindaco uno spazio molto più ampio di questo. Noi pensiamo a Palazzo Palmieri, per esempio. Grazie. 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 Grazie.